La situazione dei punti vendita è un po' come dappertutto in tutti i supermercati in questo momento nel nostro paese. C'è un po' di psicosi da coronavirus e quindi la gente cosa sta facendo? Sta comprando più del solito, fa un po' di scorta in casa. Io faccio una raccomandazione, i prodotti nei nostri supermercati ci sono, non vi preoccupate, la merce non mancherà, soprattutto i generi di prima necessità. Quindi acquistate sulla base dei vostri bisogni giornali o settimanali perché non rimarrete senza prodotti. Quindi vi faccio una raccomandazione di un atteggiamento tranquillo per quello che può essere la situazione in questo momento. Come coppia vi garantiamo un approfissionamento costante dei prodotti di cui avete bisogno.